Buongiorno a tutti, benvenuti alla seconda giornata di BTO. Iniziamo perché la sala si va via via riempiendo, sono un po' lenti. È stata una lunga giornata ieri, forse c'è bisogno di recuperare per qualcuno. Prima di dare la parola ai nostri primi ospiti della giornata, volevo ricordarvi l'intero programma di oggi. Parleremo di blog, con loro sono già qua, schierati. Dopodiché ci sarà un intervento scoppiettante di Xotels e torneremo a parlare di nuovo di social media. Poi affronteremo anche l'argomento del revenue management con una ricerca molto bella che ha studiato i comportamenti del consumatore rispetto alle tecniche di revenue applicate da hotel, compagniere e quant'altro. Chiuderemo la mattinata parlando di viral marketing. E quindi usciremo un po' dai confini del mondo del turismo per esplorare un po' in maniera più totale il mondo di internet. Nel pomeriggio, le sessioni del pomeriggio, sono come quelle della mattina d'altronde, ma sono tutte molto interessanti, perché inizieremo con una ricerca che ho tra l'altro già visto, per cui vi posso dire non ve la perdete, anche se sono tanti numeri, non vi addormentate durante i numeri, ma i numeri sono davvero interessanti, perché è una ricerca commissionata ad i4travel per quanto riguarda i numeri del mercato dell'online in Italia. Quindi un osservatore privilegiato che sta fuori dall'Italia ci ha fatto questa ricerca, vi posso dire che ci sono anche delle sorprese sui comportamenti del consumatore italiano. Poi metteremo su questo palco, siamo contentissimi perché avviene per la prima volta in Europa, mi dicono, Google, Yahoo e Bing, che è il motore di ricerca travel della Microsoft, che tra l'altro ieri sera nel corso della serata di gala di BTO ha vinto il premio come miglior sito innovativo nel mondo del turismo, premio andato a Bing Travel una volta Faircast. Concludo con gli ultimi due appuntamenti della giornata, che sono un'immersione nel mondo del brand con Gary Titterton, ci parlerà di come sviluppare le tecnologie di branding nel mondo del web e concluderemo con una sessione molto aperta e spero sia piena di domande, come tutta la giornata di oggi in cui cercheremo, ieri siamo stati un po' a rincorrere il tempo, oggi cercheremo di essere molto più colloquiali con tutta l'audience, chiuderemo la giornata con tutti i grandi portali del mondo web, ci sarà Expedia, HRS, Orbitz, Mobissimo e Travel Zoo, su questo palco a parlare del loro futuro. vorrei che tutti facessero un applauso ad Enrico Ferretti e ieri sera, per chi non c'era, ha vinto il premio come miglior blog di turismo italiano. Grazie. Me ne vado, lascio la parola a Robert Piattelli, buona giornata. Buongiorno a tutti, bene, buon BTO dei tu, iniziamo soft, avete visto Giancarlo, avete sentito Giancarlo che c'è un programma molto molto complicato, molto pieno di contenuti, internazionale e noi iniziamo un po' piano invece, nel senso per darvi quindi il parleremo in italiano, parleremo di cose concrete e abbiamo preso sul palco quattro persone, quattro personaggi che rappresentano aziende o attività in cui concretamente vi possono dare, in base alla loro esperienza, degli spunti di riflessione. Ve li presento, anzi si presentano da solo. Danilo iniziate. Sì, sono Danilo Gasparini, sono il fondatore di Babotel, che è una web agency specializzata nel settore del turismo. Cosa facciamo noi? Aiutiamo gli albergatori e non soltanto a migliorare il loro canale diretto, quindi li aiutiamo a realizzare il sito internet e li aiutiamo a promuoversi online. Io ho un'esperienza di più di dieci anni nel settore, maturata principalmente in Inghilterra, sono rientrato in Italia e mi sono reso conto che in questo settore ci sono ampi spazi di miglioramento. Quindi quello che facciamo, lavoriamo con hotel 4, 5 stelle, principalmente al momento, con catene alberghiere o singoli hotel e li aiutiamo ad avere più prontazioni direttamente. E qui c'è il premiato, l'uomo più famoso della notte del BTO, di questa notte BTO. Addirittura. Eh sì, sei famosissimo. Salve a tutti, io sono Enrico Ferretti, responsabile marketing della Rome Comunicazione. La nostra è una società che, come nel caso di Danilo, offre servizi agli operatori turistici, agli albergatori, agli agenti di viaggio per promuoversi sul web, quindi marketing turistico, web marketing turistico, realizzazioni di siti web e tutto quello che ci gira intorno, quindi anche social network, monitoraggio della reputazione. Abbiamo anche un blog, che è il blog che ha vinto questo concorso BTO Award, che è turismoeconsigli.com. Io sono anche un albergatore, oltre a un responsabile marketing, e il blog nasce dall'esigenza di voler dare informazioni in maniera semplice, analizzare le tendenze, i trend del mercato, parlando con un linguaggio comprensibile anche per coloro che non hanno una formazione orientata al web. Quindi ecco, per noi è importante anche la formazione degli albergatori, oltre a dargli gli strumenti bisogna poi spiegare loro come utilizzarli al meglio. E la nostra società fa questo. Io qui invece ho il piacere, anche se non è che io faccio, il mio ruolo in questo caso è stato casuale di averlo sul palco, però Simone, che oltre a una persona molto preparata, è anche un carissimo amico. Buongiorno a tutti. Funziona? Penso di sì. Si sente Simone Genovesi? Sì, tutto vi ringrazio dell'interessamento. Sono due giornate molto intense e faticose per tutti. Io sono Simone Genovesi, titolare di AppLink Web Agency, da fondatore da dieci anni operiamo in affiancamento alle strutture ricettive, dagli agiturismo, gli alberghi 3, 4, 5 stelle, campeggi e tour operatored incoming. Il nostro modello di business, chiamiamolo così, il nostro core, quello che ci dà successo da dieci anni, sono i frutti del lavoro che riusciamo insieme all'operatore a portare a casa. Noi operiamo con un piano di crescita aziendale che fa da cicerone, fa da guida, instradatore e controllore di un progetto sempre di medio periodo, quindi si parla sempre di almeno tre anni, in cui c'è una componente di start-up, una componente di revenue da controllare, dei sistemi di checkpoint trimestrali, eccetera, eccetera. Dopo, da qui, si scelgono gli strumenti, si profila la domanda, si profila l'offerta e dunque mettiamo quelli che sono gli indicatori di ritorno, come li chiamiamo noi. È un vero e proprio budget. Da lì poi tutto deriva. Grazie.